benvenute amiche di appunticreativi.it in questo video parliamo di riciclo creativo delle capsule del caffè con le capsule di caffè che costituiscono purtroppo un rifiuto indifferenziato si possono creare numerosissimi oggetti io però mi sto specializzando nel recupero di queste cialde per creare dei bijoux inoltre per me è un ottimo modo per incanalare tutte quelle energie negative che purtroppo tanti di noi sono costretti a sopportare tutti i giorni e quindi per me anche un'ottima terapia per intrattenermi e creare con le mie mani quindi qualcosa mi dà una soddisfazione immensa per tutte quelle che come me vogliono dilettarsi per un motivo o per un altro nella creazione di bijoux ho pensato di dedicare due parole all'argomento quindi scopriremo insieme quali parti della cialda sono riutilizzabili e daremo una rapida occhiata alle forme diciamo ai componenti che si possono ottenere dalla lavorazione di queste cialde componenti con i quali si possono ottenere dei bijoux davvero graziosi ormai la tendenza a riutilizzare le capsule di caffè per ottenere dei bijoux è molto diffusa quindi è sottinteso che non mi attribuisco la paternità di questa idea premessa fatta entriamo nel vivo di questo video tutorial ogni parte della cialda può essere recuperata sia questa parte superiore sia la fascia centrale sia l'anello e o addirittura può essere utilizzata così per intero schiacciandola con un martello quindi proprio brutalmente su un piano martelliamo però non mi sono trovata molto bene perché il martello non è abbastanza grande da o almeno il martello domestico quello che io a casa non è abbastanza grande da appiattire in modo uniforme la cialda quindi in alcune lavorazioni mi sono poi trovata in difficoltà potete poi appiattire le cialde con l'aiuto di un tagliere e con molta forza quindi c'è ma neanche tantissima però una bella forza ecco oppure potete rifinire questo tipo di appiattimento o addirittura appiattire da zero una cialda con l'aiuto di un semplicissimo schiacciapatate uno strumento che ci troviamo tutti in casa e che in questa circostanza ci può tornare veramente utile perché funge proprio da pressa e la fatica non è poi così tanta nel schiacciare la cialda possiamo anche appiattirla e piegarla a metà e creando una mezzaluna questa è una versione della mezzaluna ce ne sono anche altre con delle decorazioni centrali con la cialda schiacciata si può anche realizzare un componente come questo semplice ma d'effetto nel box descrizione qui sotto troverete il link al video tutorial per realizzarlo questa forma invece che somiglia molto a un vola e che a me piace chiamare il vola si ottiene lavorando la parte bassa di due cialde quindi questa parte qua sono 22 anelli sovrapposti e poi lavorati con le pinze e coniche che sono queste che sono queste poi abbiamo invece le roselline che sono ottenute dalla dalla parte centrale da questa fascia della cialda e sono molto carine si prestano a moltissimi a moltissime decorazioni sono davvero delle piccole chicche e ottenute poi sempre ricordate con un materiale di scarto si possono ottenere dei si possono ottenere dei cuoricini delle spirali vedete questa è sempre realizzata con l'anello esterno si possono realizzare queste forme plissettate questa in particolare è ottenuta con questa parte superiore della cialda si possono realizzare delle piccole conchiglie questo è un po più complesso ci ho messo veramente un po a capire come farla oppure dei fiori insomma non non c'è limite all'immaginazione ecco per esempio questi qua sono due componenti base per due orecchini al momento sono così grezzi ma anche questi sono molto carini ad esempio questi con l'aggiunta di una piccola abbellimento centrale che può essere una rosellina una perlina possono diventare degli orecchini davvero carinissimi o anche una collana un bracciale insomma con un materiale di scarto come questo potete veramente creare degli oggetti bellissimi da regalare agli amici alle amiche o da indossare perché no dopo avervi mostrato un po quali possono essere velocissimamente le le varie forme che si possono ottenere con queste capsule e ricordandovi sempre che se vi interessa questo tipo di video io sarò ben felice di accontentarvi e di creare una playlist proprio dedicata alla lavorazione di queste cialde di caffè vi mostrerò giusto per solleticare un po il vostro appetito la vostra curiosità altre creazioni che ho realizzato con le cialde di caffè e che potrebbero essere un valido spunto per altri tutorial li sistemo un attimo sul tavolo e ci rivediamo fra poco ed eccomi ho sparpagliato un po sul tavolo le mie creazioni devo dire non me ne sono rimaste tantissime perché per fortuna molte le ho già vendute mi sono in gioiellata per voi per mostrarvi queste creazioni e come vi dicevo all'inizio vi ho mostrato la quella che io chiamo il vola il vola con il quale si possono realizzare per esempio questi bracciali simpaticissimi sempre con la vola e bottoni con piccoli sbaroschi insomma vi potete veramente sbizzarrire potete creare questi effetti di movimento plissettati poi con le mezze lune che vi ho mostrato prima quelle con la perla potete realizzare anche questo questo simpatico orecchino anche di questo se volete poi vi faccio il tutorial queste bellissime conchigliette queste sono un po più complicate devo ammettere ci ho messo un po oppure sempre con lavorando gli anelli in questo modo potete combinare vari materiali io ho scelto di unire un bottone che ho coperto il rovescio sempre con la parte superiore di una cialda ecco qua e poi l'ho abbellita con un piccolo mezzo cristallo ed è venuto un grazioso paio di orecchini devo dire potete per esempio realizzare questi orecchini bellissimi non solo io con questo ho creato anche una una collana sempre con delle roselline come potete vedere qui dietro nascosto il rovescio sempre con dei piccoli cerchietti ritagliati insomma potete veramente creare di tutto in più una cosa che non vi ho detto se vi munite di costellatrici come queste che sono dei piccoli aggeggi per perforare la carta e donare forare la carta in forme ecco qua vedete questo ad esempio una farfallina potete sfruttare la parte centrale della cialda così come vi dicevo prima questa parte qua per realizzare degli alti delle formine che poi magari possono tornare utili per per diverse per diverse decorazioni su questi bijou di caffè io ho realizzato anche un braccialetto spero di farvelo vedere se vi interessa vuole lo farò vedere è molto carino e vale la pena approfondire anche quel quel braccialetto lì perché è simpatico veramente io spero di non avervi annoiato prima di tutto perché veramente ne morirei e anzi di avervi fornito un'ispirazione uno spunto per iniziare a lavorare alle cialde del caffè perché al momento costituiscono una parte del rifiuto indifferenziato significativa per cui tante come noi che si ingegnano per creare dei bijou o degli oggetti con uno scatto destinato alla pattumiera non fanno altro che aiutare l'ambiente io ho preso qualche numero proprio mentre lavavo l'ultimo carico di cialde che mi è arrivato e ho svuotato ben 142 cialde di caffè quindi sono 142 tazzine di caffè bevute e che poi verranno trasformate in in bijou pensate ho svuotato da da queste 142 cialde ben un chilo 650 grammi di caffè ho impiegato circa un'ora e venti per per svuotarli tutte e poi le ho lavate anche per questo passaggio se poi volete sapere come fa come comportarvi con le cialde sporche prima di lavorarle sarò felice di dirvi due parole in merito e per quelle invece che non si sentono particolarmente inclini a smanettare con pinze schiacciapatate eccetera eccetera possono magari chiedermi di realizzare per loro delle creazioni o sarò felicissima c'è un gruppo su facebook che si chiama le creazioni di appunti creativi di stefania giacco è una vetrina dove pubblico i miei progressi le mie creazioni finite eccetera e dove è possibile anche contattarmi nel caso fosse interessate per acquistare questi bijou ricordo sempre che io non sono un artigiana sono un'oppista ma in quello che faccio cerco di metterci veramente la passione perché mi dà una soddisfazione inaudita vedere poi realizzati questi oggetti da materiali destinati alla pattumiera lo ripeto ancora una volta e indossati con orgoglio da chi da chi li acquista o da chi li riceve intanto io ringrazio tutte voi per l'attenzione e la pazienza fatemi sapere se questo video vi è piaciuto e se desiderate ricevere anche dei tutorial su alcuni di questi modellini io sarò veramente felice di realizzarli per voi anche perché oramai ci ho preso la mano oramai me li chiedono me li commissionano quindi sono sempre lì a smanettare non mi costa nulla mettere la telecamera e spiegarvi come si fa nel frattempo iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati sulle video novità di appunti creativi se questo video vi è piaciuto un like è davvero molto molto gradito continuate a seguirmi su appunticreativi punto it e sulla pagina facebook di appunti creativi per oggi è tutto un abbraccio alla prossima